Alleluia, buongiorno, ecco di nuovo siamo qua insieme su questo mezzo che il Signore ci ha permesso a poter continuare questa riflessione riguardo alla lettera dei Romani, ai primi otto capitoli della lettera dei Romani che sono trattati anche un po' dettagliatamente anche con l'aiuto di un caro fratello nostro antenato che si chiama Watch Money che ha lasciato nelle nostre mani un prezioso libro dove ci sono le spiegazioni dettagliati riguarda tutta l'opera meravigliosa e potente del nostro Signore Gesù che è accaduto nella nostra vita per poter comprendere fin dal principio quali siano dai primi passi le verità e la realtà di una vera conversione, dove si è basata una vera conversione e che cosa ha portato nella nostra vita una vera conversione. Per questo voglio continuare a concludere l'aspetto del sangue di Gesù. Ieri abbiamo parlato, nel video precedente abbiamo parlato che questo sangue ha un valore anche contro Satana, oltre a avere un valore per Dio e per noi come riscatati, ma ha un valore anche contro Satana e abbiamo parlato nel video passato riguardo a questo argomento e oggi vorrei concludere questo tema del fatto dell'efficacia del sangue contro il Satana. Nell'ultimo video che abbiamo parlato abbiamo detto, voglio riprendere un po' le ultime cose dette, abbiamo citato che Egli è stato Redentore una volta ed è ora, da quasi duemila anni, sommo sacerdote e avvocato. Egli sta alla presenza di Dio ed è un avvocato presso il Padre, Gesù Cristo il Giusto, che abbiamo letto nella prima lettera di Giovanni, capitolo 2, verso 1. Notiamo bene le parole che sono scritte nella lettera anche degli ebrei, capitolo 9, verso 14, quando disse che quanto più il sangue di Cristo purificherà la nostra coscienza. Allora, coscienza noi sappiamo bene tutti quanti cos'è e la nostra identità, la vera identità nostra interna, questa invisibile, questa è la coscienza. Allora il vero, io lo chiamo che è il vero uomo, se a me per esempio mi chiamano Arben, Allora, il vero Arben non è questo che voi vedete in questo video, non è questo, questa è solo una rappresentazione di quello che il vero Arben veramente è. Perché dico questo? Perché ho dei fatti di questa cosa che sto dicendo, dove appoggio questa teoria, anche se è appoggiato anche biblicamente, quando ci fa capire la vecchia vita e la nuova vita. Allora, quando nella vecchia vita questa che voi vedete, diciamo questa, come si può chiamarla, questa salma, questo corpo, questa cosa visiva che voi vedete avanti, era guidato nella malvagità. Ecco perché dico che il vero Arben non può essere questo visivo, ma è quello, il vero Arben, è la vera persona nostra, la vera persona identica nostra, è dentro di noi, è la coscienza, è l'anima, è questo che è dentro di noi, questo che non si vede a occhio, è quello che guida questa carcassa di carne, questa è una carcassa di carne. Ecco perché Dio, in tutto il suo insegnamento nella parola, non dà e non ha mai dato valore a questa carcassa di carne, ma Dio parla delle cose eterne, allora dentro di noi, quest'anima che abbiamo noi dentro, è una cosa eterna, è per quello che Dio si rivolge all'anima quando ci parla con la parola di Dio. Allora quando un'anima veramente si converte a Cristo, non quando una persona, quando una carne si converte, quando l'anima, cioè l'accaduto è successo realmente dentro di te, allora ha trasformato la tua coscienza, allora tu sei un'altra persona, vedi che io non posso essere, ora che sto parlando con voi, l'Arben della vecchia vita dei tanti anni fa, vedi io sono diverso adesso, vedi che non è che la mia presenza esterna presenta il vero identità mio, ma è questo che è dentro, quello che è trasformato, vedi, quello che è trasformato è la mia coscienza, io sono esternamente, sono uguale, magari in quella volta non avevo la barba, oggi ho la barba, l'unico, differente, però questo che è trasformato, che non si vede, è quello dentro, è l'anima, il vero Arben è dentro di me, è per questo che il Signore parla per le cose invisibili, è che per questo c'è che parla per fede, la fede è speranza, delle cose che non si vedono, ma che si sperano, è per questo che solo per fede noi possiamo comprendere tutto il discorso che abbiamo cominciato dal principio di questi video, riguardo all'opera compiuto nella croce, al sangue versato, e quale siano le efficacce personale che hanno per noi queste meravigliose opere che sono già compiute, che non si deve essere mai più compiuto niente. Allora questo lo sappiamo, ma magari lo dico per chi sente per prima volta questi video, noi stiamo parlando della vera e completa opera redentrice che Cristo ha fatto, e come ognuno di noi la deve appropriare, in quale maniera noi possiamo avere una certezza che stiamo camminando per la giusta via, basando sempre sulla scrittura, questa è la Bibbia per la gloria di Dio che ci ha dato nelle nostre mani, e continueremo ancora, anche con l'aiuto di un caro antenato fratello, allora ripeto che alcuni sono in contrario di leggere anche le literature dei fratelli che il Signore li ha guidati potentemente, la Bibbia parla dei uomini di Dio, allora dei grandi uomini di Dio hanno preceduto il nostro cammino e ci hanno lasciato anche un insegnamento, quando Gesù andò in cielo, allora lui non ha portato tutto quanto con sé, ma ha tralasciato i dodici apostoli che per mezzo loro è continuato l'opera, per mezzo della loro parola sono raggiunte tante anime, migliaia, centinaia di migliaia, e oggi noi possiamo contare anche milioni di anime raggiunte, perché allora il Signore ha lasciato il continuo del suo cammino a noi, e questo ti ha chiamato anche a te caro, che mi senti anche a me, però se noi non abbiamo ancora trovato la chiave, oppure il vero, il vero è unico, è l'unica base, scusa, la vera e unica base dove è fondata la nostra redenzione, e se non riusciamo a comprendere come questo è accaduto e quale valore ha per noi faremmo fattica di essere continuatori di questo cammino, sia per noi ma anche per gli altri, per questo oggi magari tanto di noi come io ero tempo fa ero un credente infruttevole, non poteva nessuno raccogliere frutto di me perché io stesso non ero ancora già piantato sulla terra per poter germogliare e dar frutto, e allora vediamo qua, come abbiamo detto nei video precedenti, che esiste anche un cammino nell'illusione, un cammino nell'emozione che io la chiamo sono due strade parallele che continuano a camminare dritto, vediamola la sottilezza fratelli, che queste due strade parallele camminano sempre dritto, sono rette, però queste due strade non si incontreranno mai se qualcosa non accade che può deviare verso un punto d'incontro, allora io camminavo dritto però nel mio pensiero, nel mio parere, perché non avevo mai compreso l'opera potente e meravigliosa della redenzione e nessuno non me l'aveva fatto spiegare, per questo io ringrazio il Signore che mi ha messo nel cuore a poter condividere questi video, a poter entrare più in dettaglio per comprendere la vera opera redentrice e la vera efficacia di questa opera che è successo in noi e che ha per noi. E siamo arrivati nel terzo punto dell'efficacia del sangue di Cristo e voglio concludere oggi questa seconda parte quando noi abbiamo detto che il sangue di Cristo ha un'efficacia anche contro Satana, contro, abbiamo detto, l'accusatore dei fratelli e abbiamo ricordato questo verso del Ebrei 9,14 quanto più il sangue di Cristo purifica la nostra coscienza. Queste parole sottolineano sottolineano l'efficacia perfetta del suo ministero che è sufficiente, non c'è bisogno di aggiungere nulla all'opera compiuta, al sangue di Cristo. Per questo Gesù disse tutto è compiuto. quale dovrà dunque essere il nostro atteggiamento riguardo a Satana? e abbiamo detto che questa domanda è importante perché il nemico ci accusa non soltanto davanti a Dio ma anche nella propria nostra coscienza. Per quello io ho sentito prima nel cuore di spiegare un po' il fatto della coscienza che come avviene veramente un cambiamento di coscienza. Il cambiamento della vera persona non è il cambiamento fisico ma è il cambiamento della coscienza, la purificazione della coscienza per mezzo della fede. Non ce n'è un altro mezzo. Il sangue di Cristo è reale, l'opera compiuta è reale, ma noi possiamo appropriarsi soltanto per fede. Non ce n'è un altro mezzo. Né per sapienza, né per gli studi, né per denaro, né per forza, né per potenza, solo per la rivelazione, per mezzo dello Spirito Santo e per fede. Allora quando vediamo che quel nemico non ci accusa sotto davanti a Dio ma ci accusa anche nella nostra coscienza perché lui, il suo dovere è provocare continuamente per il tempo che a lui gli è rimasto su questa esistenza ancora. Lui proverà con tutti i mezzi a battere il castello che Dio ha creato dentro di noi. E dentro di noi ha creato un castello, fratelli, ha costruito un castello che noi ogni giorno ci alziamo le mure di questo castello in cui il fondamento è Cristo. Allora lui non fermerà mai di provare di trovare le brecce. Io nei video precedenti avevo un po' specificato un fatto storico che accadeva tra le battaglie di due nazioni, di due regni. Allora quando un re andava ad attaccare o con il pensiero di possedere l'altro regno allora doveva abbattere questa fortificazione, il castello. E allora cosa faceva? Il primo il primo cosa dopo l'accampamento intorno al castello lui mandava degli esperti a studiare tutti i muri del castello per vedere dove erano i punti deboli oppure dove nel precedente c'erano stati aperti i dibucchi e che erano richiusi allora lì il punto è più debole. E il nemico fa questa cosa uguale identico lui viene a vedere dove sono i punti deboli anche se non dovrebbero essere in un atto di nuovo perché tutto quanto di noi è partorito dall'alto non è un'opera da mano d'uomo ma è tutto quanto è tutto quanto è nuovo è partorito dall'alto i nostri il nostro carattere non è più questo vecchio che Dio l'ha modellato è cambiato del tutto è cambiato è un carattere nuovo non ingannatevi pensare che questo carattere che noi avevamo prima questo abbiamo ancora adesso solo che è migliorato perché noi crediamo in Gesù e lui ci dà la forza però quando no questo è un pensiero molto errante e che ti porta a vivere questa tale vita come tu credi quando Gesù guarì il cieco gli dice sia fatta secondo la tua la tua fede lui ha creduto che poteva essere guarito e lui è guarito allora vedete che la fede fa la differenza fratelli per fede noi abbiamo creduto che siamo nuove creature in Cristo non siamo creature riparate non siamo creature Cristo ha fatto un'opera del tutto nuovo non ha fatto un'opera riparatrice come ho detto anche nelle video precedenti per questo allora per fede io la credo questo è soltanto per fede io la posso vivere non ce n'è un altro mezzo che io posso vivere la nuova nascita in Cristo solo per fede ecco perché c'è bisogno di dimorare nella parola affinché la nostra fede cresca di giorno in giorno affinché noi non cadiamo affinché noi non permettiamo a questo nemico che gira attorno alle nostre mure per trovare i punti deboli alleluia allora questo nemico quando abbiamo detto che ti provoca e ti ti vuole condannare nella coscienza ti vuole accusare scusa scusatemi nella coscienza ti può ponere queste certe domande tu hai peccato dice e continui a pecare guardi quanto è grave fratelli quanto è grave a comprendere quello che noi siamo diventati quanto è importante scusatemi e poi diventa grave se noi non riusciamo a comprendere questo però quanto è importante che noi comprendiamo quello che è accaduto in noi non è una fantasia non è un sogno fratelli è una cosa vera reale Cristo è morto non nel sogno Cristo è morto realmente Cristo non è un un succo d'uva che si è versato su questa croce era il prezioso sangue il più prezioso premio mai pagato sulla storia dell'umanità dalla parte di Dio Dio ne ha fatti tantissimi miracoli nella storia dell'umanità ma quando Egli mandò il suo onigenito figlio su questa terra per morire e versare il sangue era il più grande miracolo che Dio abbia mai fatto era il miracolo unico nella sua speccia che non si può essere ripeto non può essere ripetuta gli altri miracoli possono ripetere anche da parte nostra come Gesù disse che io voi farete le opere più grandi di quello che ho fatto io ma come quella sua non la può più fare nessuno fratelli ecco perché noi dobbiamo credere che questa cosa è accaduta realmente nella mia vita una nuova nascita è avvenuta realmente nella mia vita solo così io può conoscere posso conoscere solo così sarò sempre attento saprò saprò conoscere la voce del tentatore saprò conoscere la voce dell'accusatore non andrò alla cecca non sarò sbalordato qua e là non avrò dei dubbi io avrò delle certezze abbiamo detto prima che la fede è certezza delle cose che non si vedono ma che si sperano e questa fede deve per forza raggiungere questo stato dentro di noi a poter veramente comprendere la voce accusatrice noi a volte accusiamo uno l'altro perché tu punti il dito chi sei tu guardi prima la trave poi vieni a togliere la pagliuzza e in questo tipo di di combattimento che noi facciamo uno fra l'altro il nemico vince terreno vince terreno perché lui in questo momento sta adoperando dentro di noi a farci condannare a vicenda e noi non ci rendiamo neanche conto non ci rendiamo neanche conto di quello che sta accadendo e allora noi stiamo facendo il nostro fratello come la stiamo trattando come nostro nemico anche se magari i suoi sentimenti sono giusti anche se il mio fratello mi sta dicendo fratello ti devi fare attenzione fratello ti devi essere attento perché stai scivolando allora tutta questa riprensione quando io ho la visualità limitata a causa della mia piccola fede della mia incertezza a volte nella fede allora io vedo questa riprensione che può essere anche giustissima permessa da Dio per il mio bene io la vedo come condanna e comincio a fare una barriera di fronte a me e questo fratello questa non succede solo tra fratelli ma questa sta succedendo tra le chiese tra le denominazioni che professano di amare il Signore e invece in realtà stanno distribuendo una testimonianza misera dicendo di amare il Signore stanno facendo al mondo intero a coloro che noi stiamo pregando per recuperare le loro anime perché stanno andando alla perdizione allora questa testimonianza si sta diventando ostacolo per il recupero delle pecore smarite questo è vero fratelli te lo dico lo dico con 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 la piena certezza con la piena convinzione perché mi sono venute a me personalmente testualmente queste parole ma guardi io non credo non voglio credere perché io nella Chiesa Evangelica vedo questo vedo questo vedo questo vedo questo non possiamo giudicarlo lui sta parlando o lei sta parlando quello che sta vedendo allora vedete che noi senza volere ci stiamo diventando ostacolo che Dio possa raggiungere queste anime ah sì stiamo contribuendo alla parte contraria a far allontanare queste anime perché perché tante volte non abbiamo la formazione e riguardo e riguardo a quello che è accaduto dentro di noi e non vivendo giorno per giorno e dimorando su questa verità fondamentale noi non riusciremo mai a capire il valore che ha per ognuno di noi quest'opera meravigliosa della redenzione del sangue di Cristo e del suo corpo spezzato ecco perché ognuno deve appropriarsi del valore reale del sacrificio di Cristo deve io ti consiglio con tutto il mio cuore io non conosco magari quale sia il tuo stato del cammino e io prego al Signore che tutti quanti stiate forti ferventi e riconoscenti di quello che è successo dentro di voi ma se ancora hai dei dubbi dentro nel tuo cuore fermati il cammino non camminare ancora più perché ti stai approfondendo nell'errore fermati fermati non è vergognoso ad ammettere che io sto camminando sbagliatamente non è vergogna davanti agli altri che magari fino a ieri ti hanno conosciuto come un un strumento forte nella chiesa però se tu stesso nel tuo cuore nel profondo del tuo cuore vedi che ci sono delle mancanze grosse riguardo alla riversione della parola di Dio allora io ti consiglio di fermarti anzi immediatamente perché stai andando verso un'illusione questa non è il vero rapporto con il Signore con Gesù non è il vero rapporto con il sangue di Cristo torna indietro nella tua redenzione quando tu ti sei convertito torna indietro non è una vergogna questo oh hallelujah questo contribuerà per la tua salvezza te lo dico con cuore io non so io non mi pretendo di essere sapiente io ho tante tante ancora da imparare dal mio Signore però riguardo a quello che il Signore mi ha fatto vedere e me la fa vedere ogni giorno con certezza sento questo dovere di condividerlo è tutto qua non è un'offesa non è un giudizio per nessuno perché io non mi permetterei mai a giudicare nessuno io non sono nessuno ma quello che il Signore ha fatto realmente nella mia vita la voglio condividere affinché a qualcuno li possa servire lo scopo che noi condividiamo questi video è soltanto questo di esortarci l'un l'altro non a essere sapiente uno sopra l'altro assolutamente no ma esortarci l'un l'altro affinché ci fortifichiamo insieme questo che il Signore ha fatto nella mia vita la può fare nella tua quello che ha fatto nella tua la può fare nella mia ecco perché serve la conversazione il Signore dice confessate anche i peccati gli uni con gli altri ciò che non avviene nei giorni di oggi noi confessiamo solo le cose belle quando il Signore mi ha dato un lavoro quando il Signore mi ha fatto comprare la macchina nuova quando il Signore mi ha fatto comprare la casa quando il Signore mi ha fatto aumento dello stipendio però quando noi pecchiamo è difficile che noi condividiamo il peccato l'uno con l'altro perché c'è ancora dentro di noi un pizzico di orgoglio che io non mi abbasso davanti a Arben oppure io Arben non mi abbasso davanti a Maurizio a Eleonora io non mi abbasso a dire e raccontare lo sbaglio che ho fatto però nascondere il peccato significa che tu stai mettendo un seme e stai rischiando che questo seme un domani partorirà sbuccerà fuori e partorirà altri peccati se tu non li confessi i peccati il Signore non ci insegna a confessare i peccati solo davanti a Lui questo è ovvio è il principio ma a confessare i peccati anche davanti uno davanti all'altro e tutto ciò servirà per edificazione servirà a capire veramente che il Signore dentro di noi ha fatto un'opera perfetta dentro di noi siamo una mente sola leggiamo gloria a Dio è già aperto nel libro dell'Ati dei Apostoli scusatemi che ho preso questo piccolo tempo di spiegare più profondamente questo che veramente sta accadendo allora noi dobbiamo essere una mente sola come si è scritto nella parola di Dio però non siamo questo è reale la vediamo tutti non ci siamo prendo un esempio allora siamo in questi gruppi su telefono su whatsapp su facebook su tutte le queste cose che sono già nel nostro uso vedo tanti distacchi tanti combattimenti tanti tante guerre che fanno i figli di Dio uno tra l'altro perché accade questo perché non hanno ricevuto un vero formamento nel Signore non hanno ricevuto un bel e una forte riformamento nella parola di Dio anche se tanti professano che io sono chiamato di proteggere la sana dottrina e io vi confesso che io e tu non siamo chiamati a proteggere ha fatto niente perché siamo incapaci noi a proteggere Paolo dice che io ho protetto ma lui ha protetto il nome di Gesù affinché non sia infangato ha protetto l'opera da lui compiuto ha protetto il valore del sangue che ha avuto per noi perché per mezzo dell'evangelizzazione tu anche proteggi la verità l'unica verità che è Gesù Cristo così che non c'è bisogno che succedano tutti questi divisioni perché se ci sono divisioni allora non c'è unione se non c'è unione allora noi non stiamo camminando più in una sola mente e in un solo pensiero ma stiamo camminando stiamo camminando disordinatamente e allora che succede fratelli perché mi sono allungato un po' per rientrare di nuovo nel tema che stiamo trattando crea allora camminando disordinatamente sia con loro che si sentono forti nel Signore però non fanno spazio a con loro che stanno sbagliando a comprendere con amore e con mansuetudine come il Signore Gesù ci ha insegnati allora anche con loro che si sentono forti stanno camminando nello sbaglio stanno camminando nello sbaglio fratelli sembra strano ma è vero perché non stanno contribuendo per la riconciliazione del corpo di Cristo ma per la divisione del corpo di Cristo pensando di avere dei sentimenti giusti in se stesso stanno sbagliando e qua dobbiamo fare molto attenzione perché c'era una persona una volta tanti anni fa che fece questo sbaglio e poi l'ha confessato pubblicamente è l'Apostolo Paolo che perseguitava la Chiesa credendo di servire a Dio e tanti oggi stanno facendo la stessa cosa professando di essere nati di nuovo stanno perseguitando la Chiesa pensando di servire a Dio è per questo che noi dobbiamo conoscere dettagliatamente perfettamente l'opera che è accaduto in noi quale sia il valore di questo sangue che si è versato per noi e qual è la ricerca di questo sacrificio nei nostri confronti che ricerca cosa sta cercando il Signore da noi cosa sta cercando tu lo sai personalmente quando il Signore ti ha redento ti ha perdonato dai tuoi peccati ti ha lavato con il puro sangue del suo figliolo ti ha fatto entrare in una realtà nuova ti ha fatto diventare una nuova creatura tu conosci quale la richiesta di Dio per la tua vita quale alleluia ecco perché è importante di conoscere perfettamente il principio del cammino il principio della conversione come è accaduta e io vi dico non vergognatevi che se veramente la vostra conversione non è accaduta in questa maniera allora nessuno entrerà nel regno dei cieli se nessuno non conosce ancora il valore del sacrificio fatto da Gesù Cristo allora sta camminando per una via sbagliata io ho camminato per vent'anni in questa via sbagliata ma grazie siano a Dio che ha avuto misericordia di me e ha affermato questo cammino errante mi ha fatto comprendere pienamente il valore della redenzione il valore quale valore ha e riguardo a questo sangue che stavamo parlando c'è qualcun altro che si tocca personalmente direttamente questo sangue ha un'efficacia contro Satana contro con lui che ci accusa continuamente come mai si è fatta una domanda giorni fa in una riunione fraterna come mai Satana che è già condannato in eterno può ancora provocare può ancora far dei danni ai uomini lui è già condannato sì è vero ma anche tu sei già salvato ma come la Bibbia ci insegna che tu e io siamo salvati in speranza in una certa maniera diavolo è condannato così però è ancora libero lui sta adoperando ancora su questa umanità perché ancora il tempo della grazia è su questa terra su questa umanità per questo diavolo ancora ha la libertà di agire comprendete questo che sto dicendo è per questo che lui ancora accusa gli eletti ancora è condannato l'accusatore dei fili di Dio è buttato giù l'accusatore ma ancora non è legato per l'eternità all'inferno è ancora libero e gira come un leon rugente attorno a chi possa divorare a lui possibile anche gli eletti ecco perché dobbiamo essere molto attenti nel nostro cammino e se noi non conosciamo bene il fondamento è meglio che si ritorna indietro c'è tempo non pensare che non c'è tempo di tornare indietro non pensare che c'hai 15 anni di fede e non c'hai tempo più a tornare 15 anni dietro a rivedere tutti i passi sì c'è bisogno di vedere un passo solo la tua redenzione c'è bisogno di conoscere perfettamente e credere con certezza la tua redenzione questo è l'unico passo e se tu riesci a conoscere perfettamente la tua redenzione come è avvenuta e dove è fondata la promessa della vita eterna che tu hai acquistato in questa redenzione allora tu tornerai subito nel tuo cammino ecco perché è importante capire il valore di tutto ciò che è accaduto dentro di noi dentro non fuori di noi dentro di noi alleluia allora se volevamo fare un pensierino come opera il nemico possiamo capire le sue parole allora lui dice tu hai peccato nel precedente però anche adesso che sei una nuova creatura continua a pecare dice e allora dove l'accusa non è questa questa è una realtà che prima io pecavo ma anche oggi che sono una nuova creatura io casco nel peccato questa non è l'accusa questa è la verità tutti peccano però c'è un'accusa basata in un'altra cosa che è legata alla coscienza che ti vuole mettere i dubbi dentro nella tua mente e il nemico ti risponde tu sei debole vedi e Dio non può fare più niente per te perché tu continua a pecare tu sei debole e Dio non può far più niente per te questo è l'ingano questa è l'accusa tu sei debole questa è l'unica accusa del Satana contro di te dice tu sei debole peccavi prima pecca ancora ora dov'è la differenza allora allora lui continua ad accusare la tua coscienza e dice tu sei debole vedi Dio non può far più niente per te Dio non è che sta lì a stancarsi ti li ha detto le cose e tutto quanto allora tu continui sempre per la tua via no questa è un'accusa tu sei debole allora queste le armi di cui serve il Satana allora siamo tentati di guardare dentro di noi per cercare di trovare in noi stessi nei nostri sentimenti o nella nostra condotta una ragione di credere che Satana ha torto questo è quello che accade quando si lancia l'accusa che viene percepita da noi che qualcuno ci sta accusando dentro la nostra coscienza che tu sei debole allora questa anima coscienza dentro di noi comincia a mettersi in movimento per poter comprendere una cosa che gli ha dato il diritto al Satana di poter accusarci oppure siamo tentati di riconoscere la nostra debolezza o di arrendersi veramente allora qua signore allora è andando all'altro estremo di abbandonarci allo scorgiamento e alla disperazione l'accusa diventa così un'arma di Satana e la più forte ed efficace allora c'erano due punti di vista quando si lancia un'accusa dalla parte del nemico allora c'è la parte principale che io comincio mi fermo e comincio a elaborare questa accusa vedo alleluia come dentro in me stesso nei miei sentimenti nella mia condotta nella mia ragione voglio trovare una ragione per credere che Satana ha torto questa è la prima maniera di trattare quello che sta succedendo oppure c'è la seconda maniera che io mi cedo io credo a questa voce che mi sta accusando e credo e credo veramente che io sono debole io non ce la faccio due sono gli estremi una è cominci a indagare se questa voce veramente ha l'autorità su di te per condannarti oppure accedere a questa voce e a credere a questa voce che tu veramente sei debole ci fa vedere i nostri peccati e cerca di accusarci davanti a Dio e se noi riconosciamo la fondatezza delle sue accuse cadiamo subita nella disperazione se noi consideriamo l'accusa dove è fondata cadiamo nella disperazione ora la ragione per la quale accettiamo così facilmente le accuse di Satana è che speriamo ancora di trovare qualche giustizia in noi alleluia ma il fondamento della nostra speranza è falso e così l'affersario ha raggiunto il suo scopo con poche parole sta dicendo che quando noi siamo così talmente sicuri che stiamo camminando nella giustizia di Dio allora vogliamo affrontare noi Satana con le nostre forze ma non è possibile non è possibile dice ora la ragione per la quale accettiamo così facilmente le accuse e speriamo ancora e che speriamo ancora di trovare qualche giustizia in noi vogliamo affrontare noi stessi con questa giustizia nostra l'accusa di Satana è per questo che lui vince perché Satana oh alleluia continuiamo a leggere ma se abbiamo imparato a non confidare nella carne non saremo stupiti quando saremo caduti in qualche peccato perché la natura stessa della carne è peccato comprendete ciò che voglio dire perché noi siamo ancora non siamo ancora arrivati a conoscere la nostra vera natura e a vedere quanto siamo impotenti abbiamo ancora qualche fiducia in noi stessi e siamo allora schiacciati dalle accuse di Satana Dio ha la potenza di regolare la questione dei nostri peccati ripeto Dio ha la potenza di regolare la questione dei nostri peccati ma non può fare niente per un uomo che si trovi sotto l'accusa fino a che quest'uomo non mette la sua fiducia nel sangue di Cristo comprendete carissimi Dio ha la piena potenza di regolare la questione dei nostri peccati ma non può fare niente per un uomo che è sotto accusa finché quest'uomo non impari a confidare nella potenza dei sangue di Cristo il sangue parla il suo favore ma l'uomo invece presta orecchio a Satana chi si trova sotto l'accusa in questo istante la sua fede si indebolisce e non permette al sangue che ha la piena efficacia di risolvere il problema del tuo peccato non permette la fede debole la piccola fede non gli da cioè pienamente l'autorizzazione al sangue di Cristo di sistemare il problema del tuo peccato perché sei sotto l'attacco dell'accusatore sei sotto la condanna perché Apostolo Paolo dice nella Bibbia se la tua coscienza ti condanna al Torah allora tu stai peccando allora questo significa che lui condanna lui accusa non solo davanti a Dio gli eletti ma anche nella propria coscienza e allora se tu continui a educarsi nel fatto di che cosa realmente è accaduto nella tua vita e cosa sia quello che a te ti copre in ogni istante così che tu possa dare la piena fiducia a questa opera che è accaduto e questa protezione divina che è su di te solo così tu puoi dar spazio alla potenza del sangue di sistemare il problema del tuo peccato alleluia dice Cristo è il nostro avvocato è vero ma noi li accusati perché l'avvocato si intromette quando c'è un'accusa oltre non serve l'avvocato altrimenti l'avvocato non serve se non c'è un'accusa un capo d'accusa allora dice l'uomo invece scusate Cristo è il nostro avvocato ma noi gli accusati sediamo a fianco del nostro accusatore non abbiamo compreso che siamo degni soltanto della morte signore aiutaci aiutaci veramente padre celeste di comprendere la profondità signore della tua opera che hai compiuto nella nostra vita alleluia noi abbiamo non abbiamo compreso scusa noi siamo seduti a fianco del nostro accusatore non abbiamo compreso che siamo degni soltanto della morte che come vedremo subito dobbiamo solo essere crocifissi in ogni caso come vedremo subito dobbiamo essere crocifissi in ogni caso non abbiamo compreso che soltanto Dio può rispondere all'accusatore e che lo ha già fatto con il sangue prezioso del suo figliolo per questo lui rimane il nostro avvocato preso il padre perché lui non versa il sangue continuamente quando noi pecchiamo lui l'ha versato una volta sola ma noi dobbiamo permettere a questo sangue agire nella nostra vita così Cristo prende la posizione dell'avvocato presso il padre perché il sangue di Cristo ha l'efficacia continua sulla nostra vita lui ha il controllo di sistemare il problema con il peccato la nostra salvezza consiste nel volgere lo sguardo al Signore Gesù e nel vedere che il sangue dell'agnello ha affrontato tutta la situazione generata dal nostro peccato e lo ha risolto rileggiamo cari la nostra salvezza consiste nel volgere lo sguardo al Signore Gesù la nostra salvezza ha una base quello che abbiamo anche detto prima nel comprendere realmente questo che è veramente accaduto nella nostra vita perché quello che è accaduto nella nostra vita è anche la promessa della salvezza noi siamo salvati in speranza se non perseveriamo fino alla fine nessuno sarà salvato dice la parola di Dio alleluia allora quel sangue dell'agnello ha affrontato tutta la situazione generata dal nostro peccato e lo ha risolto questo è il fondamento sicuro su quale possiamo contare non dovremo mai cercare di rispondere a satana con la nostra buona condotta ma sempre con il sangue di gesù sì siamo peccatori ma si ha lodato il dio il sangue ci purifica da ogni peccato dio guarda il sangue per il quale il figlio suo ha riposto all'accusa e satana non ha più nessuna base per attaccarci la nostra fede nel prezioso sangue e il nostro rifiuto di abbandonare questa sicura posizione possono da soli ridurre in silenzio le accuse di satana e metterlo in fuga rileggiamo fratelli questa frase la nostra fede nel prezioso sangue e il nostro rifiuto di abbandonare questa sicura posizione vedete parla di fede dobbiamo credere fratelli dobbiamo credere quello che è accaduto in noi solo così saremo sotto la protezione divina solo se noi crediamo realmente la potenza del sangue di Cristo solo così lui può purificarsi da ogni peccato chi accuserà gli eletti di Dio Dio è colui che li giustifica chi li condenerà Gesù Cristo è colui che è morto e ancor più è risorto e alla destra di Dio e anche intercede per noi Romani 8 33 34 e sarà così fino alla fine ma essi lo hanno vinto per mezzo del sangue dell'agnello e con la parola della loro testimonianza e non hanno amato la loro vita anzi lo hanno esposto alla morte l'Apocalisse 12 11 quale liberazione sarebbe per noi discernere meglio il valore che ha agli occhi di Dio il sangue prezioso del suo figliolo diretto alleluia ecco carissimi abbiamo parlato abbastanza ampiamente riguardo all'efficacia del sangue di Cristo e io voglio concludere qua questo video perché penso che abbiamo già spiegato che cosa è importante nel principio del nostro cammino perché a volte quando il cammino si comincia nella direzione sbagliata è come quella strada che cammina parallelo e che non si incontrano mai una con l'altra se due righe camminano parallele rettamente allora non si incontreranno mai non ci avranno mai un punto di incontro però se c'è un freno se c'è una fermata se c'è una profonda riflessione allora io posso tornare dove sono partito io mi sono dovuto tornare fratelli e per la gloria di Dio oggi vivo pienamente nella certezza dell'efficacia del sangue di Cristo e del valore compiuto del suo sacrificio per me alleluia che il Signore sia lodato poi nel video precedente vi acceno qualcosa e continueremo a parlare per la croce di Cristo alleluia riguarda all'ampietà dell'opera della croce che il Signore ci guidi ancora ci dia discernimento a poter alleluia condividere la sua parola che non è una vanagloria ma è un dovere sacrosanto che il Signore ci permette di fare perché ogni volta che noi condividiamo la parola di Dio è un santo dovere è un santo dovere alleluia affinché questa parola possa continuare a fortificare il cammino di alcuni ma anche possa far riflettere il cammino di altri che il Signore sia lodato e glorificato in eterno io vi saluto e ci vediamo al prossimo video che la pace del Signore sia con tutti voi che la pace del Signore